Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi, venerdì 28 marzo, cielo nuvoloso nelle prime ore della giornata, con possibili deboli piogge, migliora nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi. I venti soffieranno da deboli a moderati da nord-nord-ovest su entrambi i versanti. I mari, mosso sia il tirreno che lo ionio. I mari, mosso sia il tirreno che lo ionio. I mari, mosso sia il tirreno che lo ionio. I venerdì 25 marzo, cielo nuvoloso nel passale, con st Troy. Resto i 15 minuti soffit